Sfida importante tra Angolana e Migliani, coi padroni di casa con sei fuori quota titolari per aumentare il vantaggio sui play-out. Gli ospiti che puntano a prendere uno degli ultimi treni per la salvezza diretta. Fischia Marchetti dell'Aquila in un pomeriggio soleggiato ma condizionato dal forte vento. La prima occasione capita sulla testa del solito polisena. Abate risponde presente e blocca. La formazione di De Eugenio si affaccia al decimo ma Buffetti non arriva sul pallone. Episodio da Moviola a metà frazione quando Ferrara blocca la sfera al limite dell'aria con Marchetti che lascia giocare tra le proteste locali. Si riaffaccia in avanti il Miglianico e lo fa per la stoccata vincente. Mennillo al centro, Montefalcone malissimo e Abate avvalanga su Orta. Calcio di rigore netto per la squadra di Mister Tacchi. Dal dischetto si presenta Marco Battista che spiazza il portiere e sigla il sesto centro in campionato. Dall'altra parte a reclamare un penalti c'è anche l'angolana per un atterramento in area di Di Pietrantonio. Si gioca e gli ospiti avrebbero l'opportunità di allungare le distanze ma Abate tocca e manda sulla traversa il tap-in di Antonio Polisena. Nella ripresa a poche occasioni da rete col Miglianico bloccato a coprire tutti gli spazi. Di Giovanni su punizione manda alto e non fa meglio nemmeno il neo entrato Casati su sponda d'Indiaie. Maggior pericolo al 33esimo quando Bizzarri si allunga Ferrara e sulla traiettoria esmanaccia. Il copione è lo stesso quando il portiere miglianichese si oppone sull'ultimo tentativo di Ibrandiaie. Tre punti di notevole importanza per il Miglianico che supera l'acqua e sapone e vede a meno tre la salvezza diretta. L'angolana seppur con diverse defezioni perde in casa ma la classifica resta al momento assolutamente positiva. Kevin Ferrara una vittoria importantissima e tra l'altro oggi si è riuscito a mantenere anche la porta imbattuta. Sì, una vittoria importantissima che ci aiuta anche per il proseguo del campionato perché come ha detto il mister ci sono sette finali, otto finali che dobbiamo pensare una partita per volta. Comunque questa ci dà morale e forza per affrontare la prossima partita. Quante possibilità ci sono ora per la salvezza diretta considerata anche questo bel successo esterno? Noi come ho detto prima pensiamo partita per partita, cercare di fare più punti possibili e prendere i punti che sono in palio. Pensiamo al traguardo che ci siamo prefissati però pensiamo partita per partita. Mister De Eugenio oggi una sconfitta casalinga però c'è anche da trovare un attenuante ovvero sei fuori quota, tanti giocatori indisponibili. Una partita comunque non giocata forse al meglio. Sì, sicuramente a livello di prestazione un passo indietro rispetto alle altre. Di sicuro non mi attacco agli assenti perché è giusto, lavoriamo con tutti i ragazzi quindi ci sono ragazzi validi che hanno supportato la squadra. Quindi non è sicuramente l'assenza il problema, dobbiamo essere chiari. Un passo indietro che ci poteva stare e ripartiamo sapendo che la strada è ancora lunga per la salvezza.